Dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. A un certo punto del racconto delle tentazioni di Nostro Signore si legge. Gesù è molto magro e pallido. Sta seduto con i gomiti appoggiati ai ginocchi e gli avambracci sporti in avanti, con le mani unite e intrecciate nelle dita. Medita. Ogni tanto solleva lo sguardo e lo gira attorno e guarda il sole alto, quasi a perpendicolo nel cielo azzurro. Ogni tanto, e specie dopo aver girato lo sguardo attorno e averlo alzato verso la luce solare, chiude gli occhi e si appoggia al masso che gli fa da riparo come preso da vertigine. Vedo apparire il brutto ceffo di Satana. Non che si presenti nella forma che noi ce lo raffiguriamo, con corna, coda, eccetera, eccetera, pare un beduino avvolto nel suo vestito e nel suo mantellone, che pare un domino da maschera. Sul capo il turbante, le cui falde bianche scendono a far riparo sulle spalle e lungo i lati del viso, di modo che di questo appare un breve triangolo molto bruno, dalle labbra sottili e sinuose, dagli occhi nerissimi e incavati, pieni di bagliori magnetici, due pupille che ti leggono in fondo al cuore, ma nelle quali non leggi nulla. Ho una sola parola, mistero. L'opposto dell'occhio di Gesù, tanto magnetico e fascinatore anch'esso che ti legge in cuore, ma nel quale leggi anche che nel suo cuore è amore e bontà per te. L'occhio di Gesù è una carezza sull'anima, questo è come un doppio pugnale che ti perfora e brucia. Si avvicina a Gesù, sei solo? Gesù lo guarda e non risponde. Come sei capitato qui? Ti sei sperduto? Gesù lo guarda da capo e tace. Se avessi dell'acqua nella borraccia te la darei. Ma ne sono senza anch'io. Mi è morto il cavallo e mi dirigo a piedi al guado. La berrò e troverò chi mi dà un pane. So la via. Vieni con me, ti guiderò. Gesù non alza più neppure gli occhi. Non rispondi? Sai che se resti qui muori. Già si leva il vento, sarà bufera. Vieni. Gesù stringe le mani in muta preghiera. Ah, sei proprio tu dunque. È tanto che ti cerco. Ed ora è tanto che ti osservo. Dal momento che sei stato battezzato. Chiami l'Eterno? È lontano. Ora sei sulla terra e in mezzo agli uomini e negli uomini regno io. Pure mi fai pietà e ti voglio soccorrere perché sei buono e sei venuto a sacrificarti per nulla. Gli uomini ti odieranno per la tua bontà. Non capiscono che oro è cibo e senso. Sacrificio, dolore, obbedienza sono parole morte per loro. Più di questa terra che ci è dintorno. Essi sono aridi più ancora di questa polvere. Solo il serpe può nascondersi qui, attendendo di mordere e lo sciacallo di sbranare. Vieni via. Non merita soffrire per loro. Li conosco più di te. Satana si è seduto di fronte a Gesù e lo fruga col suo sguardo tremendo e sorride con la sua bocca di serpe. Gesù tace sempre e prega mentalmente. Tu diffidi di me e fai male. Io sono la sapienza della terra. Ti posso essere maestro per insegnarti a trionfare. Vedi, l'importante è trionfare. Poi, quando ci si è imposti e si è affascinato il mondo, allora lo si conduce anche dove si vuole noi. Ma prima bisogna essere come piace a loro. Come loro. Sedurli, facendo loro credere che li ammiriamo e li seguiamo nel loro pensiero. Sei giovane e bello. Comincia dalla donna. È sempre da essa che si deve incominciare. Io ho sbagliato inducendo la donna alla disobbedienza. Dovevo consigliarla per altro modo. Ne avrei fatto uno strumento migliore e avrei vinto Dio. Ho avuto fretta. Ma tu, io ti insegno, perché c'è stato un giorno che ho guardato a te con giubilo angelico e un resto di quell'amore è rimasto. Ma tu, ascolta, ed usa della mia esperienza. Fatti una compagna. Dove non riuscirai tu, essa riuscirà. Sei il nuovo Adamo, devi avere la tua Eva. E poi, come puoi comprendere e guarire le malattie del senso se non sai che cosa sono? Non sai che è lì il nocciolo da cui nasce la pianta della cupidità e della prepotenza? Perché l'uomo vuole regnare? Perché vuole essere ricco, potente, per possedere la donna? Questa è come la lodola. Ha bisogno dell'uccichio per essere attirata. L'oro e la potenza sono le due facce dello specchio che attirano le donne e le cause del male nel mondo. Guarda, dietro a mille delitti, dai volti diversi, ce ne sono novecento almeno, che hanno radice nella fame del possesso della donna o nella volontà di una donna, arsa da un desiderio che l'uomo non soddisfa ancora o non soddisfa più. Vai dalla donna, se vuoi sapere cosa è la vita, e solo dopo saprai curare e guarire i morbi dell'umanità. È bella, sai, la donna. Non c'è nulla di più bello nel mondo. L'uomo ha il pensiero e la forza, ma la donna. Il suo pensiero è un profumo, il suo contatto è carezza di fiori. La sua grazia è come vino che scende. La sua debolezza è come matassa di seta oricciolo di bambino nelle mani dell'uomo. La sua carezza è forza che si rovescia sulla nostra e la accende. Si annulla il dolore, la fatica, il cruccio quando si posa presso una donna, ed essa è fra le nostre braccia come un fascio di fiore. Ma che stolto che sono! Tu hai fame e ti parlo della donna. La questa fragranza della terra, questo fiore del creato, questo frutto che dà e suscita amore ti pare senza valore. Ma guarda queste pietre, come sono tonde levigate, dorate sotto al sole che scende. Non sembrano pani? Tu, figlio di Dio, non hai che dire voglio, perché esse divengano pane fragrante come quello che ora le massaglie levano dal forno per la cena dei loro familiari. E queste acace così aride, se tu vuoi, non possono impirsi di dolci pomi, di datteri di miele. Satollati, o figlio di Dio, tu sei il padrone della terra. Essa si inchina per mettere ai tuoi piedi se stessa e sfamare la tua fame. Lo vedi che impallidisci e vacilli solo a sentir nominare il pane? Povero Gesù, sei tanto debole da non potere più neppur comandare al miracolo. Vuoi che lo faccia io per te? Non ti sono a pari, ma qualcosa posso. Sarò privo per un anno della mia forza, la radunerò tutta, ma ti voglio servire, perché tu sei buono e io sempre mi ricordo che sei il mio Dio, anche se ora ho demeritato di chiamarti tale. Aiutami con la tua perghiera perché io possa. Taci! Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio. Il demonio ha un sussulto di rabbia. Digrigna i denti e stringe i pugni, ma si contiene e volge il digrigno in sorriso. Comprendo, tu sei sopra le necessità della terra e hai ribrezzo a servirti di me e l'ho meritato. Ma vieni allora e vedi che cos'è della casa di Dio. Vedi come anche i sacerdoti non ricusano di venire a transazioni fra lo spirito e la carne, perché infine sono uomini e non angeli. Compi un miracolo spirituale. Io ti porto sul pinnacolo del tempio, tu trasfigurati in bellezza lassù e poi chiama le corti degli angeli e di che facciano delle loro ali intrecciate pedana al tuo piede e ti calino così nel cortile principale. Che ti vedano e si ricordino che Dio è. Ogni tanto è necessario manifestarsi perché l'uomo ha una memoria tanto labile, specie in ciò che è spirituale. Sai come gli angeli saranno beati di far riparo al tuo piede e scala a te che scendi. Non tentare il Signore Dio tuo è detto. Comprendi che anche la tua apparizione non muterebbe le cose e il tempio continuerebbe a essere mercato e corruzione. La tua divina sapienza lo sa che i cuori dei ministri del tempio sono un nido di vipere che si sbranano e sbranano pur di predominare. Non sono domatiche dalla potenza umana e allora vieni. Adorami, io ti darò la terra. Alessandro, Ciro, Cesare, tutti i più grandi dominatori passati o viventi saranno simili a capi di meschine carovane rispetto a te. Che avrai tutti i regni della terra sotto il tuo scettro e coi regni tutte le ricchezze, tutte le bellezze della terra e donne, cavalli, armati e templi potrai alzare dunque dovunque il tuo segno quando sarai re dei re e signore del mondo. Allora sarai ubbidito e venerato dal popolo e dal sacerdozio. Tutte le caste ti onoreranno e ti serviranno perché sarai il potente, l'unico, il Signore. Adorami un attimo solo. Levami questa sete che ho d'essere adorato. È quella che mi ha perduto ma è rimasta in me e mi brucia. Le vampe dell'inferno sono frescaria del mattino rispetto a questo ardore che mi brucia all'interno. È il mio inferno questa sete. Un attimo, un attimo solo, oh Cristo, tu che sei buono. Un attimo di gioia all'eterno tormentato. Fammi sentire cosa voglia di essere Dio e mi avrai devoto. Ubbidiente come servo per tutta la vita, per tutte le tue imprese. Un attimo, un solo attimo e non ti tormenterò più. E Satana si butta in ginocchio supplicando. Gesù si è alzato invece. Divenuto più magro in questi giorni di digiuno sembra ancora più alto. Il suo volto è terribile di severità e potenza. I suoi occhi sono due zaffiri che bruciano. La sua voce è un tuono che si ripercuote contro l'incavo del masso e si sparge sulla sassaia e la piana desolata quando dice va via Satana. È scritto adorerai il Signore Dio tuo e servirai lui solo. Satana con un urlo di strazio dannato e di odio indescrivibile scatta in piedi, tremendo a vedersi nella sua furente, fumante persona e poi scompare con un nuovo urlo di maledizione. Gesù si siede stanco appoggiando indietro il capo contro il masso. Pare esausto. Suda. Ma esseri angelici vengono ad alitare con le loro ali nell'afa dello speco purificandola e rinfrescandola. Gesù apre gli occhi e sorride. Io non lo vedo mangiare. Direi che egli si nutre dell'aroma del paradiso e nesce rinvigorito. Il sole scompare apponente. Egli prende la vuota bisaccia e accompagnato dagli angeli che fanno una mite luce sospesi sul suo capo mentre la notte cala rapidissima, si avvia verso est, meglio verso nord-est. Ha ripreso la sua espressione abituale, il passo sicuro. Solo resta, a ricordo del lungo digiuno, un aspetto più ascetico, nel volto magro e pallido e negli occhi, rapiti in una gioia non di questa terra. Dice Gesù per chi crede. Satana, lo hai visto, si presenta sempre con veste benevola, con aspetto comune. Se le anime sono attente, soprattutto in spirituali contatti con Dio, avvertono quell'avviso che le rende guardinghe e pronte a combattere le inside demoniache. Ma se le anime sono disattenti al divino, separate da una carnalità che soverchia e assorda, non aiutate dalla preghiera che congiunge a Dio e riversa la sua forza come da un canale nel cuore dell'uomo, allora difficilmente esse si avvedono del tranello nascosto sotto l'apparenza innocua e vi cadono. Liberarsene poi molto difficile. Le due vie più comuni prese da Satana per giungere alle anime sono il senso e la gola. Comincia sempre dalla materia. Smantellata e asservita questa, dà l'attacco alla parte superiore. Prima il morale, il pensiero con le sue superbi e cupidige. Poi lo spirito, levandogli non solo l'amore, quello non esiste già più, quando l'uomo ha sostituito l'amore divino con altri amori umani, ma anche il timore di Dio. E allora che l'uomo si abbandona in anima e corpo a Satana, pur di arrivare a godere ciò che vuole, godere sempre più. Come io mi sia comportato lo hai visto. Silenzio e orazione. Silenzio. Perché se Satana fa la sua opera di seduttore e ci viene intorno, lo si deve subire senza stolte impazienze impazienze e vili paure, ma reagire con la sostenutezza alla sua presenza e con la preghiera alla sua seduzione. È inutile discutere con Satana. Vincerebbe lui perché è forte nella sua dialettica. Non c'è che Dio che lo vinca. E allora ricorrere a Dio, che parli per noi, attraverso a noi, mostrare a Satana quel nome e quel segno, non tanto scritti su una carta o incisi su un legno, quanto scritti e incisi nel cuore. Il mio nome, il mio segno. Ribattere a Satana unicamente quando insinua che egli è come Dio, usando la parola di Dio, egli non la sopporta. Poi dopo la lotta viene la vittoria e gli angeli servono e difendono il vincitore dall'odio di Satana. Lo ristorano con le duggiade celesti, con la grazia che riversano a piene mani nel cuore del figlio fedele, con la benedizione che accarezza lo spirito. Occorre avere volontà di vincere Satana e fede in Dio e nel suo aiuto. Fede nella potenza della preghiera e nella bontà del Signore. Allora Satana non può fare del male. Va in pace. Allora Satana non può fare del male. Allora Satana non può fare del male. Allora Satana non può fare il male. Allora Satana non può fare il male. Allora Satana non pot� Grazie a tutti.